Buongiorno e bentornati alla fine di questa settimana sulla nostra rubrica di meditazioni mattutine, avvicinarsi a Dio. Come di consueto sono qui con voi Gianluca Pollutri, pastore della Chiesa Biblica di Firenze e conduttore di questo podcast e ti invito a sottoscriverti qui in basso sul nostro canale. Come possiamo avvicinarci a Dio? Ci avviciniamo a Dio tramite una meditazione quotidiana per l'approfondimento della nostra fede e proprio tramite questa rubrica di meditazioni mattutine che voglio andare insieme a voi con la nostra mente e con il nostro cuore alla parola di Dio per riflettere nella semplicità ma anche gustare la profondità dei suoi insegnamenti cosicché possiamo vivere una vita che è realmente benedetta. Oggi voglio vedere una tematica importante per mezzo della vita di Giuda Iscariota e segue questo tema. Gesù sceglie intenzionalmente un traditore come parte dei suoi discepoli. Questo lo ritroviamo sempre a Matteo 10, versetto 4, dove Giuda Iscariota viene menzionato e con quella frase che spiega quello Giuda Iscariota che poi lo tradì. Voglio vedere questo aspetto in un'ottica ben precisa perché non viene meno in questo la sovranità di Dio nel scegliere un uomo per portare avanti i suoi compiti e questa è proprio la tematica, quello che voglio mettere più che mai in risalto, che Dio usa ogni cosa al fine di compiere i suoi scopi, i suoi propositi. Dio porta avanti i suoi propositi per mezzo di tutte quelle circostanze che sono state e pianificate e preparate da Dio. Un tempo nella piccola città di Chiriot, era una città della Giudea relativamente ignota, ma tutto cambiò quando questa piccola città diede alla luce quest'uomo, l'uomo più odiato che si è mai vissuto nel cristianesimo, Giuda Iscariota. La prima menzione di Giuda è qui nell'elenco che viene fatto nel Vangelo di Matteo e viene annumerato tra i dodici. Non abbiamo però alcuna traccia di quando Gesù chiamò Giuda ad essere parte dei suoi discepoli. Sappiamo che Gesù lo ha chiamato e lo ha fatto partecipe di opere meravigliose, tra cui gli fu dato persino la possibilità di servire in modi miracolosi, così come viene descritto in Matteo X. Giuda era il primo nome, era il nome suo di nascita ed è più che mai un nome che ha preso una connotazione particolare, tant'è vero Giuda viene usato in maniera dispregiativa, per dire una persona che è traditore, ma era ai tempi di Cristo un nome abbastanza comune. Infatti Giuda è la parola greca del nome del territorio israelitico, del popolo di Dio, la Giudea. Per di più Giuda era uno dei figli di Giacobbe. Iscariota, Giuda Iscariota, questa parte, questa seconda parte, Iscariota significa letteralmente un uomo della città di Kiriot. Le persone normalmente si domandano perché Gesù avrebbe scelto un tale uomo per essere tra i suoi discepoli. Non sapeva come sarebbero andate le cose, che Giuda lo avrebbe tradito? Ma certamente che lo sapeva Gesù. Sì, Gesù lo sapeva ed era proprio questo quello che lo ha portato a scegliere Giuda, perché nell'Antico Testamento diceva che il Messia sarebbe stato tradito da un amico stretto per trenta sigli d'argento. Gesù sapeva che Giuda era quell'uomo, così come viene descritto in Giovanni 17, 12, quando Gesù punta proprio il dito a lui. Alcune persone sono più che mai dispiaciute per come Giuda si è comportato, pensando che sia stato semplicemente forviato o usato da Dio come una sorta di pedina in un dramma, in uno scenario soprannaturale, su cui lui non aveva nessun controllo. Ma in realtà Giuda fece quello che fece per una sua scelta personale. Più volte Gesù gli diede la possibilità di pentirsi. Ma cosa ha fatto Giuda? Si rifiutò. Infine Satana lo usò in un tentativo diabolico di distruggere Gesù e ostacolare proprio il piano di salvezza divino. Tuttavia questo tentativo fallì, perché Dio può osare anche uno come Giuda per realizzare i suoi scopi meravigliosi, quelli che l'hanno condotto alla redenzione. E sulla base di questo voglio fare insieme a voi delle applicazioni pratiche, dandovi proprio dei suggerimenti applicativi. Indubbiamente ci sono persone nella nostra vita che fanno determinate cose che ci fanno del male, ci feriscono e tante persone augurano anche il male ad altre persone intorno a loro. Quale cattiveria? Questo sicuramente potrebbe portare diversi, anche credenti, a essere scoraggiati. Ma non scoraggiamoci, perché sappiamo che quelle persone, quelle persone che si comportano malvagiamente, che proprio intenzionalmente ricercano il male delle altre persone, fanno parte proprio di quel piano di Dio. Dio ha in controllo ogni cosa e nessuno sfugge al suo controllo. E pertanto tutte quelle persone che ti trattano male sono parte del piano divino, saranno responsabili delle loro azioni davanti a Dio perché Dio li chiamerà in giudizio per quelle, ma quelle situazioni Dio le vuole usare per il tuo bene. Ricordiamoci, Giuda, che ha tradito il Maestro, il Signore dei Signori e quel tradimento è risultato come redenzione per l'umanità, per la mia salvezza e per la tua salvezza. E quindi Dio vuole che affronti quelle circostanze, affronti quelle persone non con un cuore pieno di amarezza, di risentimento, ma con quella speranza che hai in Dio sapendo che Dio vuole e sta portando avanti un'opera meravigliosa. Devi raggiungere queste persone come fece Gesù, raggiungere quelle persone come Gesù stesse la mano a Giuda, invitandolo più volte a comportarsi come lui voleva. Dio sa cosa sta facendo nella nostra vita e ci chiama a fidarci di Lui, ad essere più che mai gioiosi, a rallegrarci quando vediamo la mano di Dio operare in mezzo a quelle difficoltà, quando vediamo che gli scopi di Dio vengono realizzati attraverso tutte quelle circostanze difficili, attraverso tutta quella cattiveria, attraverso anche i nostri nemici. E per quello voglio darti alcuni suggerimenti per come pregare oggi. Loda Dio per il suo controllo sovrano su ogni circostanza, per quella sovranità che Egli esercita su ogni uomo e su ogni donna e per quelle promesse che Lui ci ha fatto nella scrittura. Perché Egli porterà avanti i suoi scopi e nessuno potrà fermare la sua mano, nessuno potrà ostacolare i suoi propositi. Per il tuo approfondimento, leggi Matteo capitolo 26 dal versetto 14 a 50 e poi anche 27 da 1 a 10 e rispondi a queste domande. In che modo Gesù rivelò che sarebbe stato Giuda a tradirlo? E quale reazione ebbe Giuda quando seppe che Gesù era stato condannato? Quando pensiamo alla nostra vita, alle nostre circostanze, quelle difficili, alle persone che ci hanno fatto del male, ricordiamoci che Dio usa ogni cosa al fine di compiere i suoi scopi. L'obiettivo è quello proprio di riconoscere che i suoi piani eccelsi sono i migliori per noi e che dobbiamo sottometterci a questi in ravvedimento umili, ricercando la sua opera in noi. E che Dio ci benedica in questo oggi. Grazie a tutti.